ti sei mai posto il problema se questo allenamento che hai fatto oggi quello che farai domani quello che hai fatto ieri poi alla fine è stato efficace o meno allora sulla base di cosa riesce a capire se quello che hai fatto era giusto o meno insomma molte volte vengono dei dubbi allora oggi parliamo di qualcosa che veramente molto importante che proprio alla base del concetto della metodologia dell'allenamento oggi intanto il video 300 quindi sono anche contento 300 video a disposizione nell'ultimo anno e mezzo ma oggi parliamo di carico interno carico esterno carico interno carico esterno e allora che cosa sono queste due cose lo direi per gli addetti ai lavori del campo dello sport sono terminologie abbastanza nuove anche se poi non sono così tanto nuove sono passati già decine d'anni sono state fatte molte pubblicazioni molte review alcune le vediamo anche oggi anche intanto subito metti qualche like condividi con gli amici perché l'argomento è importante subito e poi telefonino da verticale a orizzontale allora perché perché dobbiamo subito far vedere qualche slide partiamo con questa allora intanto quantificare il carico di lavoro allora quanto è tanto quanto è giusto quanto esterno quanto interno potevo elencare ancora tante di quelle cose importanti come ho detto ci sono tante review tante ricerche tante considerazioni da fare devo dire io non cito tra le tante una che mi fa piacere sicuramente del 2005 una review scritta da franco impelizziere di samuele marcora e da altri autori che hanno riportato tutto quanto nel gioco del calcio la quantificazione dell'allenamento carico interno internal load o carico esterno external load erano dei parametri non sufficientemente adottati proprio in un gioco di squadra di questo tipo ovvero si faceva e ahimè si fa un allenamento un po simile per tutti senza rispettare rispettare le caratteristiche individuali perché la fisiologia ci vuole diversi allora ritorniamo un attimo su questa slide se noi dovessimo capire il tanto o il giusto sulla base di che cosa dovremmo andare a considerare il nostro allenamento allora se tu ci fai caso molte volte quando vai in palestra in piscina in campo eccetera quantifichi il tuo lavoro con che cosa con quello che fa in termini di metri di potenza di volume di tempo o di chili sollevati questo cos'è è un allenamento è un allenamento che produce quali effetti questo non lo puoi sapere e non lo possiamo sapere perché quello che è esterno è diverso da quello che è interno vediamolo con un'altra slide che forse rende meglio l'idea allora se noi dividiamo il carico esterno con qualcosa che è misurabile dall'esterno noi possiamo avere per esempio il power output cioè la potenza espressa e poi facciamo un esempio su questo giusto per capirci tra di noi così come la velocità l'accelerazione analisi del tempo movimento funzioni neuromuscolari possiamo fare delle prove di salti e quant'altro se invece andiamo a analizzare il carico interno e vediamo subito dopo esattamente che cos'è allora abbiamo qualcosa di diverso tipo ad esempio abbiamo la percezione della nostra fatica possiamo chiaramente avere la frequenza cardiaca e il lattato la variabilità cardiaca la hrv o la frequenza cardiaca a riposo la hrr così come i questionari e chiaramente anche il sonno perché ne parliamo sempre è straordinariamente importante allora come vi ho detto facciamo degli esempi una cosa è quello che io posso fare dall'esterno se ritorniamo su questa slide per esempio vediamo il primo valore il power output quindi noi prendiamo un ciclista che solitamente sono abituati ad avere questo parametro di riferimento correttissimo e quindi possiamo prendere un ciclista e diciamo guarda oggi devi pedalare per 30 minuti a 400 watt perfetto quindi farà 400 watt questo secondo te è un carico esterno interno e probabilmente esterno giusto bene allora uno dice sì ma se domani faccio di nuovo 400 watt per 30 minuti sarà la stessa cosa sicuro perché mettiamo il caso che domani quest'atleta arrivi da una serie di condizioni che si sono che hanno cambiato lo stato dei fatti ovvero ad esempio ha mangiato in un modo diverso si è idratato in un modo diverso e questo sempre ve l'aspetto della nutrizione oppure è arrivato da un affaticamento mentale perché magari ha fatto degli esami ho avuto dei problemi a scuola oppure è arrivato da una stanchezza pregressa perché magari stanotte la notte precedente non ha dormito in una fase profonda non ha recuperato lo sforzo precedente o mettiamo il caso che non ha ripristinato le scorte di glicogeno o mettiamo anche il caso che magari possa avere una leggero stato influenzale oppure mettiamo il caso che oggi stia andando comunque a correre o a pedalare in questo caso e ha una umidità diversa oppure un vento diverso bene cosa succede il parametro il parametro che noi abbiamo deciso di adottare questo power output che ci dice 400 watt in 30 minuti ma questi due giorni però producono degli effetti diversi perché il secondo giorno l'atleta farà sicuramente 30 minuti a 400 watt però peccato che lo sta facendo con 15 battiti di frequenza cardiaca superiore allora lo stress fisiologico che è il parametro da considerare nel carico interno è totalmente diverso quindi due allenamenti che apparentemente sono uguali vengono invece diciamo tradotti dal nostro organismo in un modo totalmente diverso quindi il giorno prima si è allenato per un allenamento per una direzione per un obiettivo e il giorno seguente per un altro obiettivo totalmente diverso e questo è corretto se lo prevediamo probabilmente è totalmente sbagliato se non abbiamo previsto perché pensiamo che questo allenamento sia efficace nello stesso modo questi argomenti che abbiamo visto fanno anche questi parte dei percorsi formativi più avanzati oddio con 300 video che ho fatto tutti gratuiti se te li va a rivedere tutti magari hai tutte queste informazioni le ho messe a disposizione gratuitamente su youtube o su facebook eccetera se vuoi fare qualcosa di più avanzato magari seguito con me nel team con gruppi privati di discussione domande e risposte eccetera sai che ci sono vari percorsi di formazione ma soprattutto c'è anche un corso demo c'è questo link valla a rivedere lo metterò anche comunque nel titolo perché è importante cercare di capire come si può fare un livello superiore di formazione quello che abbiamo visto oggi carica interna e carica esterna è la base dell'allenamento perché se noi non capiamo che l'allenamento va quantificato va monitorato e va valutato abbiamo due milioni di strumenti non ho problemi di strumenti bisogna avere quel minimo di competenza che ci fa capire che cosa è importante altrimenti non riusciamo più a capire la fatica ad esempio per chi arriva cosa succede come possa evitarla oppure entrare in quello stato di overreaching non funzionale che va verso l'overtraining ovvero il sovralenamento e da quel momento diciamo abbiamo perso l'atleta tutte queste cose sono ben prevedibili prima che accadano ormai quindi per cercare di capire come arrivare esattamente all'obiettivo che volevamo bisogna aggiungere un pizzico di competenza che ovviamente puoi fare in tanti modi io ti do solamente la guida per cercare di farlo basandoti sulle evidenze scientifiche alcune delle evidenze che abbiamo usato anche per queste poche slide così come per quelle dei corsi sono anche di produzione made in italy abbiamo citato in pelizieri marcora tra i ricercatori più famosi al mondo nell'area della sport science and medicine dall'italia bene allora ti aspetto domani mattina alle 7 e un quarto per la nuova diretta metti ancora qualche like e condividi se ti ha fatto piacere ti aspetto domani oppure seguimi anche su youtube ciao